Si chiama Filò, il filobus che al massimo entro un paio di anni attraverserà l'attuale strada parco a Pescara e Montesilvano. Questa mattina nel corso di una conferenza stampa il presidente della GTM Michele Russo ha presentato il marchio e il logo, nonché il sito internet, del tanto discusso mezzo pubblico. Voi cercate in modo particolare di comunicare che l'impatto sull'ambiente è davvero minimo? L'impatto sull'ambiente è pressoché zero, è un mezzo che si muoverà con un sistema di elettrificazione ad impatto zero, non ci sono assolutamente onde magnetiche che saranno emesse da questo impianto di elettrificazione perché si tratta di un impianto ad alimentazione continua. Quindi è un mezzo totalmente ecologico e anche nei tratti nei quali si muoverà senza la palificazione, perché ci sono alcuni tratti, si muoverà con un sistema di un motore a gasolio alimentato elettricamente. Quindi è il massimo dell'ecologicità che si può avere da un mezzo di trasporto pubblico. Partirà a breve anche una massiccia campagna di comunicazione agli abitanti di Pescara e Montesilvano. Più che massiccia, mirata direi. Una campagna che abbiamo studiato in modo che possa raggiungere tutte le persone, le famiglie interessate a questo nuovo progetto. È una campagna che cercherà di comunicare alla città i vantaggi di questo mezzo di trasporto e addirittura una campagna interattiva. I lavori sono a buon punto, risolte alcuni problemi logistici come quello del muraglione a Montesilvano. hanno confermato che ci saranno i semafori intelligenti a discipulare il traffico della strada parco all'altezza degli incroci. Ciononostante, il progetto Filovia è sempre osteggiato da alcuni cittadini. Questo capita per ogni grande opera che si realizza nella città. Conosciamo quali sono le perplessità di quei cittadini, ma d'altra parte noi crediamo che i vantaggi che questo nuovo progetto darà a migliaia di cittadini valga l'eventuale sacrificio di pochi, anche se noi non consideriamo un sacrificio.